L'1 e 2 minuti, buonasera, benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale. A sorpresa questa sera è stata raggiunta un'intesa per un cessate in fuoco in Siria. L'ho detto il vicepresidente americano Mike Pence al termine di un incontro in Turchia con il presidente turco Erdogan. Si ferma così l'offensiva dell'esercito di Ankara nel nord della Siria contro i kurdi e Trump saluta con entusiasmo twittando che così saranno salvati milioni di vite umane. I leader europei intanto cercano una posizione comune. Sentiamo. E il vicepresidente americano Mike Pence dopo un faccia a faccia di quattro ore ad Ankara con il presidente turco Erdogan ad annunciare che un accordo per il cessate in fuoco nel nord della Siria è stato raggiunto. Una tregua di quattro giorni che dovrebbe permettere alla popolazione kurda del Rajava di ritirarsi dalla zona di sicurezza ampia a circa 120 chilometri e profonda 30 lungo il confine turco. A quel punto le forze armate di Ankara dovrebbero ripiegare l'operazione militare e concludersi dopo nove giorni di combattimenti, centinaia di morti e 300.000 sfollati. Un enorme successo diplomatico per Donald Trump, un risultato straordinario e un grande giorno per la civiltà lo definisce il presidente americano che aveva anticipato di qualche istante l'annuncio del suo vice su Twitter Grandi notizie dalla Turchia. Grazie a Erdogan, milioni di vite saranno salvate. Un accordo, dice Trump, che non si sarebbe mai potuto fare tre giorni fa. Doveva esserci un po' di duro amore per ottenerlo. E il riferimento è a questa lettera nella quale Trump invitava Erdogan ad un passo indietro minacciando di distruggerlo economicamente. In cambio della tregua, la Turchia ha ottenuto la sua safe zone oltre la frontiera liberata dai combattenti kurdi del JPG assieme allo stop delle sanzioni economiche americane. Le forze kurde hanno fatto sapere di aver ricevuto garanzie da parte di Washington e di essere pronte a rispettare la tregua che per il ministro degli esteri turco Cavusoglu però sarà soltanto una pausa delle operazioni militari che finiranno definitivamente solo dopo il completo ritiro dalla regione dei miliziani kurdi che dovranno essere disarmati e le loro strutture militari distrutte. Il cessato il fuoco avrà un peso non indifferente sulle decisioni che dovevano essere prese al Consiglio europeo in corsa a Bruxelles per tentare di fermare l'artiglieria turca. Tra Europa e Gran Bretagna è stato raggiunto un accordo sulla Brexit, un'uscita ordinata del Regno Unito dall'Unione dopo tre anni di negoziati del referendum del giugno del 2016. I 27 leader dell'Unione hanno dato il loro endorsement all'intesa ma l'iter non è ancora concluso. Il Parlamento britannico dovrà votare sabato l'accordo raggiunto. Il Premier Johnson si è detto sicuro dell'approvazione ma i numeri non tornano. Gli unionisti nordirlandesi del DAP hanno annunciato la loro bocciatura così come i laburisti. Secondo il nuovo accordo l'Irlanda del Nord sarà allineata ad una serie limitata di regole del mercato unico e resterà parte del territorio doganale britannico. Inoltre l'Alster avrà la possibilità di decidere sull'applicazione di lungo termine delle regole dell'Unione. Torniamo in Italia adesso con la partita della manovra. La maggioranza trova un punto di intesa sulle pene inasprite agli evasori ma non sul limite dell'uso del contante al centro delle dispute. Non possiamo vessare i commercianti, dice Di Maio. Mentre Italia viva polemizza sulla nuova tassa sulle bibite zuccherate. Sulla manovra economica il dibattito all'interno della maggioranza non è affatto concluso. Anzi, che più di un punto abbia bisogno ancora di essere esaminato lo dimostrano non solo l'approvazione salvointesa ma anche la richiesta che il capo politico dei 5 Stelle Di Maio avanza al Premier perché il testo torna in Consiglio dei Ministri. Ma Conte tiene il punto. Il via libera e la sua posizione c'è già stato. Eppure nel movimento i malumori sono tanti e riguardano il tetto al contante, le multe per chi non si stalla i POS, la stretta sulle partite IVA. E insiste. Il Consiglio dei Ministri dovrà riesaminare la legge di bilancio nella seduta di lunedì. Inoltre alcune fonti 5 Stelle fanno sapere che per domani ci sarà una riunione dei ministri pentastellati con Di Maio perché il Ministro degli Esseri, spiegano, vuole fare un punto su temi per noi prioritarie e irrinunciabili come il carcere, i grandi evasori e la confisca visto che vediamo dei tentennamenti. Infatti uno dei punti più divisivi nella maggioranza è proprio quello che riguarda il carcere per i grandi evasori. I 5 Stelle intendono abbassare le soglie di punibilità e inasprire di molto le pene e vogliono che il tutto sia inserito già nel decreto fiscale mentre il PD e Italia Viva frenano. Bisogna evitare un approccio troppo manettaro. Silvio Berlusconi conferma la sua presenza a Roma la manifestazione organizzata dalla Lega e da Fratelli d'Italia per sabato e lo fa nel corso di una conferenza stampa unitaria a Perugia per sostenere la campagna elettorale del centro-destra per la conquista della regione. Si voterà il 27 di ottobre. Io avevo deciso di non andare in piazza sabato con Giorgio e Matteo ma poi ho cambiato idea dopo aver avuto come sicura la notizia che stanno lavorando ad una legge che prevede il carcere fino a otto anni per un'evasione da 50.000 euro ha detto Berlusconi. La presenza dei tre leader, come non si vedeva da tempo conferma l'importanza che riconoscono al voto in Umbria dove intendono battere l'alleanza locale fra 5 stelle PD e mandare un segnale forte al governo nazionale giallo-rosso. Chiudiamo con la cronaca. Rischiano da 5 a 12 anni di carcere gli agenti di polizia penitenziaria arrestati questa mattina a Torino. L'indagine è ancora in corso e coinvolge anche altre persone. Le accuse gravi includono il reato di tortura. Pugni nello stomaco dove i lividi non sono visibili calci, insulti e minacce frasi come per te sarà dura stare qui impiccati, dovrei ammazzarti invece, ti devo tutelare. Sei agenti, tutti molto giovani della polizia penitenziaria del carcerello russo Cutugno di Torino sono finiti agli arresti domiciliari con un'accusa pesante, tortura. Le loro vittime, 5 in tutto, erano i detenuti in particolare quelli accusati di violenza sessuale o reati sui minori. Perché sei dentro la domanda? E se la risposta era per stupro la reazione in molti casi era fatta di spintoni, schiaffi sputi in faccia fino alla minaccia non dire come ti sei fatto gli ematomi se no ti picchiamo ancora dai la colpa al tuo compagno di cella. L'inchiesta è partita circa un anno fa quando il garante per i detenuti di Torino ha denunciato in procura una serie di episodi avvenuti tra l'aprile del 2017 e il novembre del 2018 episodi raccontati da alcuni arrestati. È stato proprio il nucleo investigativo della polizia penitenziaria a indagare tanti racconti raccolti dagli inquirenti come quello di un detenuto appena entrato in carcere gli vengono consegnate le lenzuola le stoviglie e le posate poi le guardie iniziano a picchiarlo alla branda della sua cella viene tolto il materasso all'uomo sarebbero state negate visite mediche e l'ora d'aria i pestaggi sempre stando al racconto dei carcerati sarebbero avvenuti in stanze corridoi sulle scale sempre lontani dalle videocamere di sorveglianza le indagini non riguardano solo i seggenti e i domiciliari ma anche altri indagati a piede libero È tutto l'informazione torna come sempre domattina alle 7 con la rassegna stampa grazie per essere stati con noi e buonanotte grazie per la visione grazie per la visione